e ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video io sono roid e oggi vi mostrerò come trovare e sconfiggere joy ultraviolet il boss finale del nuovo evento o diciamo vecchio evento la vendetta dei cartelli detto ciò cominciamo una cosa dovrete ovviamente attivare l'evento come vi ho mostrato nella guida apposita su attivare disattivare cambiare gli eventi una volta fatto ciò dovrete parlare con maurice raccogliere 30 oggetti che vi dirà e sarà una cosa da fare ogni volta che vorrete arrivare in questa mappa e poi potrete finalmente arrivarci la guida completa alla mappa ve la porterò subito dopo questo video è un video su una stanza segreta che uscirà dopo di questo quindi non vi preoccupate nel caso non sappiate com'è arrivare al boss diciamo che ci sarà la guida completa in tempo reale senza velocizzato senza tagli senza niente detto ciò quindi andiamo direttamente a la parte finale del viaggio in cui potremo appunto andare da joy una volta superato il cortile della villa e essere entrati ci sarà questa fontana all'inizio che vi dirà manca qualcosa devi trovare qualcosa per attivarla ci sarà un indicatore che andrà in posti casuali della villa e voi dovrete raggiungere sconfiggere il minimo che apparirà in uno di quei posti casuali per ottenere la maschera tornate indietro applicate la maschera alla fontana e vedete che la fontana sparirà e vi porterà sotto a un piano segreto inferiore mi raccomando ricaricate le munizioni prima perché non ci sono macchinette sotto detto ciò potrete prendere queste scale venire completamente fregati ed entrerete nell'arena di joy ultraviolet il combattimento è molto carino innanzitutto dovete sapere che questo evento ha sei miniboss diversi oltre a joy e dovrete combatterne la maggior parte prima di scontrarvi contro di lui in questa arena cosa vuol dire vuol dire che scenderanno due miniboss insieme a dei nemici normali che dovrete sconfiggere dopo un po ne scenderanno altri due che dovrete sconfiggere poi scenderà joy insieme ad altri due joy inizierà ad attaccarvi ma sarà ancora invulnerabile ai danni finché non avrete eliminato gli ultimi due miniboss una volta eliminati questi potrete iniziare a combattere lui la cosa positiva è che così avrete la possibilità di farmare tutte le leggendarie esclusive di quei miniboss oltre avere la possibilità di ottenerle tramite joy senza doverli andare a cercare perché come vedrete nelle mie guide specifiche su questi miniboss non sono così facili da trovare non sono così veloci da farmare anzi quindi direi che vi lascio al combattimento fino a quando non arriviamo alla parte dove c'è joy vulnerabile e poi ripartiamo eccoci quindi arrivati joy è adesso vulnerabile cosa vuol dire vuol dire che adesso inizierà oltre ad attaccarvi a subire danno e credo vi starete accorgendo di una piccola particolarità innanzitutto sembra più piccolo del normale e inoltre sembra un killavolt viola beh è esattamente così durante il combattimento avrà alcune fasi di immunità in cui diventerà anche più grande diciamo usando sostanze non proprio legali di cui ha ricoperto la villa e di cui non posso parlare per non perdere tutta la monetizzazione del canale che non ho ancora a parte questo è comunque un modello molto simile a killavolt vedete che anche uno scudo uguale semplicemente cambia il pattern dei colori però c'è una particolarità molto importante perché non gli sto facendo danno la build che sto utilizzando è infinimos e per quelli di voi che hanno visto diciamo la maggior parte dei miei tutorial sui boss questa build sciotta ma sciotta veramente tanto la build con cui ho fatto anche il raid boss emovora e vedete che joy prende poco danno perché perché ha gli stessi hp di un raid boss non so ancora se è una cosa che vale per tutti i boss degli eventi adesso quindi dovrò andare a testare finite le guide su questo evento anche col capitano ont per vedere se sono diventati effettivamente due raid boss invece che due boss normali il che avrebbe senso visto la quantità di loot che vi possono dare visto il fatto che per poter accedere a questi boss bisogna faticare quindi questi boss adesso sono molto difficili la vera domanda è se questo stadio da diciamo raid boss dove vedete che tank an tanto è qualcosa relativo soltanto al mai e malta oppure se qualcosa che presente anche se qualcuno provasse a farsi l'evento a livello 30 cosa del genere in questo caso gli eventi diventerebbero contenuti endgame le armi degli eventi sono abbastanza forti da essere considerate endgame quindi secondo me gearbox dando gli eventi permanenti ha fatto questa cosa vedete che come vi dicevo prima ha fatto una fase di immunità e si è ingrandito adesso è molto più grande di prima ma per il resto non ha pattern particolari spara vi salta addosso con l'onda d'urto dello scudo e fine l'unica cosa è che ha della resistenza alle radiazioni continuamente a volte diventa immunità a volte diventa in resistenza questo non ho ancora capito nello specifico se è dovuto alle sue fasi di immunità se è dovuto a come creato come boss però questo è ricordatevi che continueranno a spawnare altri nemici quindi avrete abbastanza diciamo possibilità di tirarvi su nel caso finita terra ma allo stesso tempo ricordatevi che avrà dei danni enormi e ogni tanto vedete che farà quelle sorti di onde intorno a sé che gli permetteranno di curarsi una volta sconfitto potrete ottenere tutto il loot del dell'evento diciamo non ha un loot specifico perché lo specifico come vedremo ce l'hanno i mini boss quindi direi che per questo boss è tutto spero vi sia piaciuto vi sia interessato in questo caso vi chiedo di lasciare un like e di iscrivervi nel caso non lo siate ancora per supportare questo canale aiutarmi a fare tanti nuovi video non vi preoccupate adesso dopo questo video ci sarà quello su una stanza segreta presenta nell'evento ci sarà la guida completa e poi inizieremo le guide con i mini boss e le varie leggendarie su dove farmarli come trovarli eccetera e anche su una farm di eridion molto carina detto ciò darò di tutto ciao a tutti grazie a tutti